Ciao amici, sono Lox, bentornati sui Fatti e le Opinioni di Lox, il canale per i veri malatti di sport. Oggi ricomincia la Serie B, interessante turno infrasettimanale, il settimo della stagione. Partiamo da una partita che era importante non solo per lo scontro in sé, ma anche per l'intero campionato, ovvero la sfida tra il Pisa e la SPAL. L'importanza della partita risiede nel fatto che la SPAL è l'ultima squadra in questo momento qualificata per i play-off e il Pisa è la prima squadra non qualificata per i play-off, quindi un successo della formazione nerazzurra può servire anche a tutte le altre squadre in lotta per cercare di rientrare nella battaglia per ottenere un posto per i play-off. Ebbene, la partita in realtà non c'è stata, il Pisa ha vinto, ha vinto con grandissimo merito, ha vinto per 3-0, un incontro dominato per tutta la sua durata. Un primo tempo in realtà piuttosto lento, nel ritmo, con poche occasioni da rete, ma tutte comunque di marca nerazzurra. La SPAL non è sostanzialmente riuscita a creare assolutamente nulla in attacco, complice anche la presenza, le tante ha senso, ok? Sicuramente è complice anche la presenza dell'unice iniziale dell'attaccante Asensio, un giocatore veramente mediocre che, d'altra parte, 7 squadre in 7 anni fa veramente fatica a trovare un suo posto, una sua collocazione. Ex, peraltro, piuttosto nervoso anche con le panchine, con le persone presenti allo stadio. Asensio ha giocato piuttosto male, la SPAL non è riuscita a creare nulla in avanti. Per il gol del vantaggio trovato dal Pisa con Marsura, che è abile a sfruttare un contrasto in area e attorno al 35esimo minuto ha trovato il gol del vantaggio. Nella ripresa ci si aspettava una reazione da parte della SPAL, ebbene la squadra estensa non è riuscita in realtà da creare nessuna occasione reale. L'unica vero tiro in porta che si può contare, ma neanche in realtà nello spiega del rapporto, è un colpo di testa di Flocari su cross di strefezza, respinto da De Vitis dalla difesa del Pisa. Il Pisa invece ha attaccato, ha attaccato tante volte, Belisci ha fatto degli ottimi interventi, ci sono state delle mischie, dei tiri da fuori usciti da poco, fino a che Marsura è riuscito a servire il gol del raddoppio a Mazzitelli, con il quale il Pisa è andato sul 2-0. Nel finale poi c'è stato anche con Siega il gol del 3-0, che ha chiuso la sfida, dando anche una dimensione più rotonda al punteggio, una vittoria assolutamente meritata per gli uomini d'Angelo, che soprattutto ottengono, quello che dicevamo all'inizio del video, il risultato di chiudere ancora di più la classifica, ora sono a soli due punti dalla SPAL. SPAL che è veramente in un momento difficile, nelle ultime dieci partite aveva vinto una sola partita, ora si somma anche questa che era terza sconfitta nelle ultime 11, una difficoltà tremenda in fase offensiva, certo la squadra ha tanti infortuni, la squadra è abbastanza rimaneggiata, ma il Pisa era ancora più rimaneggiato a causa Covid, la formazione nero azzurra aveva ancora più problemi di formazione, eppure ha giocato una grande partita sul piano della grinta. Definire, come ha detto giustamente Agostinelli in telecronaca, un solo migliore in campo nel Pisa è molto difficile, tanti giocatori hanno giocato veramente una partita straordinaria, a me è piaciuto più di tutti l'isi sulla fascia, il terzino sinistro ha giocato benissimo, ma nella difesa hanno giocato bene Benedetti, ha giocato bene De Vitis, il Guccher a centrocampo, davanti Marsur ha giocato molto bene, Marconi stesso ha tenuto impegnata la difesa avversaria, hanno giocato tanti, veramente una buona partita, il Pisa mi è piaciuto, è una squadra molto viva, molto ben gestita da D'Angelo, non ha pressioni, ma perché no, come lo scorso anno già finì molto bene il campionato, anche quest'anno potrebbe concludere alla grande e perché non andare a cercare di recuperare un posto nelle prime squadre, nelle prime per poter giocare poi in playoff. Per la Spalla invece è nottefonda, è migliore in campo direi della Spalla è stato O'Coli, il giovane difensore proprietario che arriva dall'Atalanta, ventenne, è una buonissima prestazione per lui, strefezza nel secondo tempo quando è passato sulla fascia rispetto al primo tempo in mezzo al campo è migliorato e poi Floccari comunque è dall'alto dei suoi 40 anni, ancora si sbatte più di tutti gli altri ed è riuscito, l'unico che è riuscito a creare qualcosina in avanti di pericoloso. Grande partita comunque, grande vittoria del Pisa veramente. Per incontro arbitrato da Gioa, arbitro di Serie A, lo scorso anno promosso in Serie A, un arbitro giovane ma magari probabilmente già bruciato da Nicchi che l'ha voluto promuovere a tutti i costi vendendolo come un fenomeno assoluto, Gioa in realtà lo scorso anno già in Serie A ha fatto fatica, quest'anno con l'accorpamento della Can A e della Can B ha soltanto 4 presenze in Serie A, oggi ero curioso di vedere l'opera in Serie B, devo dire che non mi è impressionato neanche oggi, il voto per lui comunque è 6, ha fischiato 35 falli, 5 cartellini gialli ma non dà mai l'impressione di avere la partita veramente in pugno. C'è su di lui soprattutto poi un dubbio all'inizio, ha dato un giallo a strefezza per un fallo su Quaini, secondo me l'intervento era quasi, come si dice purtroppo in gergo, è un intervento da arancione strefezza era in ritardo, è entrato veramente pesante, quasi quasi poteva essere forse già rosso subito. Poi qualche imprecisione a centro del campo, qualche decisione che ha indispetito un po' di ambo le parti, un'accettazione da parte dei giocatori non molto evidente, insomma un arbitro che mi sembra abbia ancora parecchia strada da fare, sufficiente, voto 6 ma niente di più. Telecronaca, stavo sulla Rai, come sempre Capuano e Agostinelli, voi sapete mi piacciono tantissimo, il voto è 8, questa tranquillità, questa serenità nel raccontare l'incontro magari senza andare a cercare dettagli o cose da fenomeni come fanno magari altri, però nel complesso una telecronaca ben fatta e un accompagnamento molto piacevole alla partita. Quindi ci avviciniamo a questo turno, settimo turno stagionale infrasettimanale con questa partita che riapre la classifica, domani seguiremo due partite, quelle che ho scelto essere le due partite più interessanti della giornata, ovvero lo scontro tra due squadre nella zona playoff che lottano anche magari per una promozione diretta, ovvero Venezia-Lecce e poi lo scontro tra due delle squadre più in forma in questo momento del campionato che hanno la possibilità di continuare questa ricorsa magari anche per la zona playoff, visto che si stanno staccando dalla zona retrocessione, ovvero Brescia contro Regina. Quindi ci vediamo domani con le partite, mi raccomando, iscrivetevi al canale, like se vi piace di video e campanellina per essere informati dei prossimi contenuti. Intanto vi ringrazio, buonanotte e a domani. Ciao ragazzi!